Una tradizione che si rinnova nel segno della condivisione e dell'amore per lo sport all'aria aperta. L'antica usanza della popolazione andriese di recarsi a piedi nel mese di maggio al Santuario della Madonna dei Miracoli, protettrice della città, rivive anche quest'anno grazie all'undicesima edizione della Marcia Cittadina Mariana. Non è riuscita neanche la pioggia a frenare l'entusiasmo dei 550 partecipanti che domenica mattina si sono dati appuntamento davanti al Santuario per l'iniziativa voluta e organizzata dall'Associazione Madonna dei Miracoli, in collaborazione con i padri Agostiniani, i maratoniti dell'Andria Ranz, l'ASI, Associazioni Sportive Sociali Italiane e il Laboratorio Verde di Fare Ambiente. Due distinti percorsi di 5-10 km con partenza e arrivo al Santuario hanno visto sportivi ed amatori correre fianco a fianco, uniti dalla voglia di rinnovare l'antico culto della città di Andrea verso la sua santa protettrice, dando vita ad una gara dove a trionfare sono state innanzitutto la solidarietà e la fratellanza. Alla corsa hanno preso parte anche molti atleti diversamente abili, in gran parte iscritti all'Associazione Orizzonti, la Lega del Filodoro e l'Associazione Migrates Liberi di Andrea. Siamo partiti 11 anni fa che doveva essere solo una passeggiata verso il Santuario, riprendendo un'antica tradizione dove i nostri antenati, i nostri nonni venivano il mese di maggio qui alla Madonna a piedi. Quindi abbiamo voluto riprendere questa e pensando di non arrivare a questo successo di tante iscrizioni e per cui ringraziamo le associazioni e tutti quanti che ci sono vicini. Questo sa dimostrare quanto la nostra associazione nell'organizzare queste iniziative sia sempre con un fine particolare, quella della solidarietà, della vicinanza e dell'accoglienza. Tra gli ospiti di rilievo della manifestazione è il tecnico Fidal Andriese Antonio Lopetuso e il maratonista barlettano Mimmo Ricatti. Nella 10 km maschile vince Giuseppe Matarrese, mentre per la sezione femminile primeggia Rosa di Tacchio. Nella 5 km maschile la vittoria è andata invece a Nicola Sininsi, prima delle donne e Lidia Pergnola.